Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con la pagina politica perché ci sono state polemiche roventi in consiglio regionale oggi per l'istituzione del secondo sottosegretario alla presidenza della regione. Le opposizioni hanno attaccato Roberti ma il presidente ha replicato sostenendo la necessità istituzionale di questa figura. C'era per noi Pasquale Di Bello. A dare il senso della giornata ci ha pensato il capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, che ha creato un neologismo già spedito all'attenzione della Crusca per l'inserimento tra i vocaboli di nuovo conio. Disforma, questa la parola con la quale Greco ha bollato la riforma statutaria giunta all'attenzione del Consiglio regionale con la quale si istituisce la figura del secondo sottosegretario alla presidenza della giunta. Insieme a lui a parlare sul tema anche Michela Fanelli, Angelo Primiani, Massimo Romano e Roberto Gravina. Tutti indistintamente hanno sparato a palle incatenate contro una riforma che, a loro dire, antepone poltrone da spartire a soluzioni da trovare per i guai molisani. Il Consiglio regionale e il governo regionale dovrebbero essere concentrato su altri aspetti che interessano i cittadini molisani, non sulla creazione di nuove poltrone, perché oggi di fatto con la modifica dello statuto stiamo istituendo il secondo sottosegretario che serve solo a soddisfare gli appetiti degli esponenti della maggioranza, non per dare risposta ai cittadini molisani. I dati in questa regione sono drammatici, il PIL non cresce, siamo l'ultima regione d'Italia con un PIL, ed è un'indagine della CGA di Mestre, che è certificato crescere sullo 0,22%, ultima regione d'Italia. Ma anche guardando a Elea, alla sanità i dati non sono migliori, noi anziché andare avanti stiamo regredendo con un dato su tutti, quello dell'area prevenzione, che è sceso da 80 punti a 53, segno che il Covid in questa regione non ha insegnato nulla. Ma anche un altro aspetto meriterebbe ben più attenzione, è quello dell'emergenza idrica che in questi giorni si sta sentendo in tutta la sua gravità. Di parere contrario il Presidente della Regione, Francesco Roberti, che parla invece di riforma necessaria al funzionamento della macchina amministrativa e che rispedisce le polemiche al mittente. Quali sono le ragioni di questa modifica? Basti pensare che così come è stata riorganizzata la macchina amministrativa, il Comune di Campobasso per esempio ha la possibilità di nominare 8 assessori, arrivo fino a 10, la Regione di Morisi solo 5 e abbiamo una serie di funzioni da dover gestire, tipo le commissioni della conferenza Stato Regione, le conferenze Stato Regione, dove se non siamo presenti, perché siamo impegnati su tante commissioni, si rischia poi di avere un cortocircuito, tipo quello che è successo con il famoso Balduzzi, dove la Regione di Morisi era assente per dire il suo sì o per dire il suo no e in quel caso l'assenza viene considerata come la possibilità di non poter tornare indietro nelle decisioni. Ecco le opposizioni che hanno criticato il provvedimento sostenendo che ci sono tante questioni aperte ed è arrivato in aula il secondo sottosegretario, lei che cosa replica? Beh innanzitutto questa era una riforma che andava fatto, poi le criticità che ci sono in questa Regione non sono nate ieri né una settimana fa, sono criticità strutturali che ci portiamo dietro da tanto tempo e soprattutto la possibilità di sbloccare le assunzioni è strettamente collegato ai due rendiconti che dobbiamo riapprovare dopo la sentenza della Corte Costituzionale che li ha bocciati sia il 21 sia il 22 e quindi in questa maniera per arrivare al 23. Si sa quali sono le problematiche, poi che l'opposizione faccia in maniera sterile il proprio lavoro lo faccia, insomma è semplicemente predestuoso ma non è costruttivo. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza con grande soddisfazione del consigliere di Baggio al quale nelle prossime ore verrà conferito l'incarico. E sempre nella seduta odierna il Consiglio regionale ha deciso di rinviare il secondo e ultimo punto all'ordine del giorno, quello della nomina del garante per i diritti della persona. La scelta quindi slitta a una delle prossime sedute. Voltiamo pagina, più controlli dalle forze di polizia e confronto serrato con tutte le parti in causa. A Isernia in prefettura si è tenuto un tavolo con esponenti di regione Molise Acque, gestori della rete idrica e i sindaci dei comuni della provincia maggiormente colpiti dalla riduzione d'acqua. Non parliamo di emergenza, ha detto il prefetto Franca Tancredi, che invita la popolazione comunque a ridurre i consumi. C'era per noi Davide Gambardella. La situazione due anni fa era persino peggiore. Non parliamo dunque di emergenza, ma di criticità che riguardano le reti idriche di alcuni comuni, anche se un tavolo con tutte le parti in campo era necessario per cercare di individuare il bandolo della matassa. Il prefetto di Isernia, Franca Tancredi, ha incontrato a un tavolo i rappresentanti di regione Molise, Grim, Molise Acque, EGAM, Consorzio di Bonifica di Venafro e i sindaci dei comuni della provincia di Isernia per trovare una soluzione alla riduzione di acqua che in questi giorni sta interessando tutto il territorio. In questi giorni in prefettura sono arrivate molte ordinanze adottate dai sindaci per gestire un fenomeno che potrebbe, laddove non affrontato in un determinato modo o non gestito in un determinato modo come un migliore l'invito della popolazione, un migliore utilizzo dell'acqua pubblica, potrebbe comportare una situazione di emergenza se non di criticità. reti idriche perché? Perché bisogna verificare se nelle reti idriche che interessano il territorio di questa provincia vi siano eventualmente perdite all'accia abusivi, verifiche che andranno effettuate anche con l'ausilio delle polizie dedicate, non solo la polizia provinciale, i carabinieri forestali, e forse l'ordine in generale, proprio per evitare che si arrivi a una situazione di emergenza se non di criticità. A Dagnone e a Benafro i cittadini sono ormai esasperati. L'invito del prefetto di Sernia a essere parsimoniosi nell'utilizzo dell'acqua e a essere pazienti anche di fronte a misure che potrebbero risultare impopolari. Un uso ragionato, un uso veramente ragionato. È vero che ciascuno di noi tiene al proprio giardino, al proprio terreno, però un uso indiscriminato non va assolutamente bene. Un confronto sereno, trasparente e per supportare soprattutto i sindaci che dovranno loro a livello territoriale adottare dei provvedimenti che magari potrebbero anche subire delle contestazioni, ma sono all'interesse della collettività tutta. Intanto domani mattina a mezzogiorno davanti alla sede della giunta regionale in via Genova a Campobasso è in programma un presidio dei lavoratori del trasporto pubblico locale. La protesta è stata indetta dai sindacati di categoria nonostante il settore mostri notevoli risorse dedicate, hanno spiegato i sindacati, annunciando la mobilitazione di domani. Questo è afflitto da condizioni di lavoro ingiuste e inique che ledono il benessere psicofisico dei dipendenti. E adesso parliamo di sanità e di liste d'attesa. ASREM lavora per accorciare i tempi per esami e visite, tuttavia spesso ci sono difficoltà per contattare al telefono i cittadini. L'azienda sanitaria per questo ha diffuso alcune informazioni e alcuni numeri utili. Il servizio è di Enzo Luongo. Nel giorno del via libera della Camera al decreto sulla lista d'attesa, decreto che prevede tra l'altro l'istituzione di una piattaforma nazionale per monitorare i tempi di erogazione delle prestazioni, l'ASREM interviene sulla situazione molisana. Quotidianamente negli ultimi anni sono finiti in cronaca casi eclatanti in regione, anche un anno di attesa per un esame. Ora l'azienda sanitaria regionale sta provando a invertire la rotta e ridurre i tempi d'attesa. La direzione strategica della sede di via Ugo Petrella a Campobasso, affermano i vertici dell'ASREM, sta puntando su azioni mirate. Infatti, in virtù delle disponibilità, gli utenti con prenotazioni fino al prossimo 31 dicembre quotidianamente continuano a ricevere chiamate per anticipare esami e visite. L'azienda sanitaria ricorda a tal proposito che il numero dal quale vengono effettuate queste chiamate è il seguente 0875 75 2601. Una precisazione dovuta al fatto che spesso chi riceve chiamate da numeri che non ha tra i propri contatti non risponde pensando all'insistenza di un qualsiasi call center. Proprio qualora il cittadino non dovesse rispondere, l'azienda sanitaria fa sapere che può richiamare ad un altro contatto 0875 75 26 20, valutando con l'operatore la possibilità di effettuare in anticipo la prestazione. Al fine di rendere il servizio ancora più efficace ed efficiente, conclude Nasrem, l'azienda sanitaria ha anche predisposto un servizio di sms. L'utente che è stato contattato dal call center e che non ha risposto al telefono e che non ha neanche richiamato, verrà comunque raggiunto da un messaggio con le indicazioni del caso e la richiesta di rivolgersi ad uno specifico numero telefonico. Torniamo a Isernia per la cronaca. Due furti nel giro di poche ore in pieno centro. I ladri in un'occasione sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza di una pizzeria e si indaga su una banda che poco dopo ha messo a segno un colpo in un negozio per prodotti celiaci. Sentiamo ancora Davide Gambardella. Hanno approfittato delle prime ore del buio e delle strade deserte per intrufolarsi in due attività commerciali in pieno centro. Quello che vedete in video è l'interno di una pizzeria di via Umbria Isernia, dove poco dopo le nove di sera una banda di malviventi è riuscita a entrare dal retro portando via dalla cassa alcune centinaia di euro e una serie di bibite. Immagini provenienti dalle telecamere al circuito chiuso del locale, rese pubbliche sui social. Non l'unico a cui hanno fatto visita i ladri, poco distante, sempre in via Umbria, hanno fatto induzione in un negozio che vende prodotti per celiaci, portando via a un magrobottino. Soltanto alcuna merce che sarà venduta sul mercato parallelo. Indignazione e rabbia per due episodi avvenuti in rapida sequenza. Le immagini della banda in azione sono in queste ore al vaglio degli agenti della questura di Isernia. La polizia si è messa alla ricerca dei malviventi che con ogni probabilità avevano studiato bene il piano. E ora vediamo in questo servizio le immagini delle operazioni di recupero di un uomo di 78 anni che era andato per cercare funghi nei boschi di Campochiaro ma è precipitato in una cava e per recuperarlo appunto è stato necessario l'intervento di un elicottero. Ce ne parla ancora Enzo Luongo. Poteva finire in tragedia invece fortunatamente una vicenda a lieto fine, quella capitata ad un anziano della provincia di Caserta che si era addentrato nei boschi di Campochiaro per cercare funghi. L'uomo è caduto in una cava in una zona particolarmente impervia, rimanendo bloccato è riuscito a chiedere aiuto con il suo cellulare ad allertare i soccorsi. Vigili del fuoco e soccorso alpino hanno dovuto faticare non poco per raggiungere l'uomo e poi considerato che la zona non era raggiungibile dai mezzi è stato chiesto l'intervento di un elicottero da Salerno. L'intervento è durato alcune ore, il velivolo dei vigili del fuoco con personale specializzato ha recuperato l'anziano e l'ha messo in sicurezza. L'elicottero è poi atterrato alla base della protezione civile che si trova sempre nel territorio di Campochiaro. Qui l'uomo quando era ormai sera è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e personale della protezione civile. La conferenza delle regioni accoglie con favore le iniziative legislative finalizzate alla predisposizione di una legge statale che riconosca il ruolo dei familiari nel prendersi cura in maniera continuativa dei propri cari affetti da grave disabilità. E quanto ha detto l'assessore regionale Gianluca Cefaratti, coordinatore vicario della Commissione Politiche e Sociali della conferenza delle regioni nel corso di una audizione in commissione alla Camera. Sono da promuovere e garantire, ha aggiunto Cefaratti, sia tutele previdenziali, agevolazioni fiscali e facilitazioni nell'ambito lavorativo che la possibilità di riconoscere la funzione di caregiver familiare, nominata direttamente dalla persona disabile, anche ai non conviventi che intendano fornire sostegno e aiuto a più persone. Il Tar Molise, cambiamo argomento, ha rigettato il ricorso di Arap Servizi per la sospensione dei provvedimenti della regione che limita il conferimento dei rifiuti non canalizzati al depuratore di Montenero di Bisaccia. Sentiamo Dalila Catenaro. È stata rigettata con decreto del presidente del Tar Molise la richiesta dell'Arap Servizi SRL, società che gestisce l'impianto di depurazione sito nel comune di Montenero di Bisaccia, di sospendere il provvedimento con cui la regione Molise ha inibito durante la stagione estiva il conferimento di rifiuti non canalizzati presso l'impianto di depurazione. Da tempo le emissioni maleodoranti provenienti dal depuratore osteggiano la villeggiatura dei turisti e la permanenza degli abitanti nel territorio comunale, in particolare durante l'estate quando il depuratore lavora al massimo delle proprie potenzialità. Il ricorso è stato proposto da Arap Servizi SRL contro la regione Molise e il comune di Montenero di Bisaccia. Il porto turistico Marina Sveva ha presentato un atto di intervento in opposizione alle ragioni della ricorrente. Si è detta soddisfatta Simona Contucci, sindaco di Montenero di Bisaccia. Riportiamo le sue parole. Esprimo piena soddisfazione per la decisione del Tar Molise perché salvaguarda in primis la stagione turistica in corso. Preferisco comunque non entrare in questa sede nel merito della decisione espressa nel decreto del Tar. Ribadisco invece come il provvedimento adottato dalla regione Molise, teso a mitigare le annose problematiche generate dalle emissioni o d'origine presenti alla Marina di Montenero, sia stato lungimirante e abbia tenuto conto delle innumerevoli segnalazioni pervenute sia al nostro comune che alle forze dell'ordine, alla stessa regione e agli enti e agenzie deputati al controllo. Ringrazio sentitamente la regione Molise con il presidente Francesco Roberti e l'assessore Andrea Di Lucente per la grande attenzione mostrata nei confronti del nostro territorio. Un sentito ringraziamento anche ad Arpa Molise, sempre pronta e attenta nei confronti delle problematiche riportate in questi anni. Vale comunque la pena sottolineare come a partire dalla data di limitazione al trattamento dei rifiuti non canalizzati presso il depuratore, le esalazioni sgradevoli siano praticamente sparite. Non so se si tratti di una mera casualità, ma dopo molti anni è la prima volta che i residenti e i turisti sul nostro litorale non si lamentano dei cattivi odori. Al momento prendiamo atto di quest'ottima notizia e rinviamo qualunque altra considerazione a settembre, sia per quanto concerne la Camera di Consiglio del Tar, ma anche nell'affrontare un ragionamento più complessivo sul tema del depuratore presente in Contrada Padula, che deve essere sicuramente utile alla comunità, ma che non deve assolutamente creare problematiche che abbiamo rilevato per troppi anni fino al mese scorso, ha concluso Simona Contucci. Grande soddisfazione in merito al risultato conseguito anche per il legale del Comune di Montenero, l'Avvocato Salvatore Di Pardo. Queste le sue parole. Nella comparazione fra gli interessi economici dell'Arap Servizi SRL e l'interesse della collettività alla salubrità dell'aria e dell'ambiente, il Tar Molise ha privilegiato il benessere dei cittadini molisani e dei territori limitrofi. Si tratta di un importante intervento del giudice amministrativo a sostegno del principio di precauzione ambientale e sanitaria, che mette a riparo i cittadini e i turisti dal disagio dei cattivi odori e dal più grave rischio di danni alla salute, ha concluso l'Avvocato Di Pardo. A soffrire di più il problema del sovraffollamento delle carceri in Molise è il penitenziario di Campobasso, dove a fronte di una capienza regolamentare di 106 detenuti, in base ai dati aggiornati allo scorso 30 giugno, ne erano presenti 154. A Isernia ci sono 74 detenuti, 24 in più rispetto alla capienza sempre regolamentare. Presenze non in sovrannumero per la casa circondariale di Larino, invece, con 119 detenuti e ospitati, in linea con il numero previsto di 119 appunto. L'Associazione Antigone ha presentato in merito un dossier su tutte le regioni italiane. Torniamo a Isernia perché dopo le proteste dei giorni scorsi è stata modificata l'ordinanza per le emissioni sonore da parte dei locali del Centro Storico Musica fino a luna di notte, il venerdì, il sabato e nei prefestivi e dispositivi per l'autocontrollo del volume. L'opposizione parla di vittoria dopo le denunce, ma il sindaco Castrataro replica e definisce strumentalizzazioni gli attacchi delle ultime ore. Il servizio è ancora di Davide Gambardella. La notizia è che l'ordinanza per le emissioni sonore è stata modificata. A Isernia musica fino a luna di notte, il venerdì, il sabato e nei prefestivi, imminente l'installazione di dispositivi del controllo dei decibel e zonizzazione acustica delle aree individuate per il by night. Quella del sindaco Piero Castrataro è anche l'occasione per fare alcune precisazioni con una serie di attacchi diretti a coloro che sarebbero strumentalizzando la questione movida estiva. Il primo cittadino parla di narrazione errata di ciò che sta accadendo in città e se la prende con la stampa, ma anche con chi getta la benzina sul fuoco. Dobbiamo trovare un modo per fare in modo che la città abbia, come giusto che sia, dei momenti di divertimento, soprattutto per i giovani, ma non solo, ma al tempo stesso tutelare i residenti del centro storico. Questo credo che sia il modo migliore, come abbiamo fatto sempre, di rispondere a un problema annoso che nessuno ha risolto nel corso degli anni, ma soprattutto di sgonfiare quella che è stata una vera e propria bolla da parte di chi fa politica non perché ama la città, ma solo perché deve denigrare quello che viene fatto e rappresenta questa questione come qualcosa contro la città e non aiuta assolutamente a risolvere il problema. Una bolla gonfiata da chi ama fare polemica, insomma. C'è qualcuno che non lavora per risolvere i problemi? Noi cerchiamo di risolverli, afferma Castrataru. La questione delle sanzioni è stata strumentalizzata, non vengono dal comune di Sernia, ma dalle forze di polizia nella loro attività di controllo del territorio. È chiaro che dispiace che magari qualcuno venga multato, ma al tempo stesso io credo che si possa trovare il modo assolutamente per andare avanti e per fare una proposta che sia di qualità dal punto di vista dell'intrattenimento. Un invito ai titolari dei locali a non avere timore di organizzare serate, il comune appoggerà tutte le proposte di spettacoli all'aperto, purché in linea con un'offerta variegata di rilievo. Nessuna chiusura nei confronti degli esercenti, dunque, e intanto dall'opposizione alzano le braccia al cielo per la modifica dell'ordinanza, ad esultare il consigliere Giovan Carmine Mancini, il quale sui social parla di vittoria dopo il dietrofront dell'amministrazione. Hanno fatto il giro del mondo e catturato l'attenzione di tutti i media nazionali, le immagini del popolare attore di Hollywood Ryan Reynolds che indossa la maglia del campo basso calcio nella trasmissione televisiva americana di Mark Consuelos e di sua moglie Kelly Ripa. Proprio Consuelos è socio di Matt Rizzetta e insieme sono proprietari della squadra Rosso Blu. Il video è diventato virale sui social con migliaia di condivisioni. E ora andiamo a San Massimo perché entro un anno sarà pronta la caserma del soccorso alpino della Guardia di Finanza che sarà dotata di elisuperficie. Per il sindaco Leggeri è motivo di orgoglio per la comunità e per tutta la regione. Sentiamo Tonino Danese. Una caserma del soccorso alpino della Guardia di Finanza lungo la provincia alle 86 nella piana di San Massimo. Ad annunciarlo il sindaco del paese Alfonso Leggeri che ha parlato di motivo di orgoglio per la comunità e per la regione. I lavori procedono spediti e ha detto tra meno di un anno potrà essere inaugurata non una caserma qualunque. Ha tenuto a precisare ma un presidio strategico per la sicurezza in montagna. Nel centro-sud esistono solo sette strutture simili e in tutta Italia 24 prevalentemente lungo le Alpi. L'iter che ha portato all'avvio dei lavori è stato lungo e complesso e ha visto tre governi regionali interessati. L'accordo di programma, spiegato il sindaco Leggeri, fu stipulato nel 2011 con l'allora presidente della regione Michele Iorio e il generale della Guardia di Finanza Fernando Verdolotti per un investimento di 500 mila euro che successivamente fu incrementato con un nuovo accordo nel 2016 con Frattura e il generale Vito Straziota per l'elisuperficie, progetto supportato poi anche dal governo Toma. Il comune di San Massimo ha messo a disposizione un'area di 19 mila metri quadrati per costruire la caserma che si svilupperà su due livelli e coprirà una superficie di 450 metri quadrati. L'elisuperficie invece occuperà 1200 metri quadrati per un costo totale dei lavori di 1 milione e 600 mila euro. Il successo del progetto, ha rimarcato Alfonso Leggeri, è frutto di una stretta e proficua collaborazione tra comune, comando regionale della Guardia di Finanza, regione e provveditorato alle opere pubbliche. Un particolare ringraziamento ha concluso, va l'attuale comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Luca Cervi, per aver creduto nell'importanza di questa opera strategica e per aver dimostrato un'attiva e concreta collaborazione. E da San Massimo andiamo a Termoli perché con grande soddisfazione del primo cittadino e dell'amministrazione comunale, la città conferma la bandiera verde per il dodicesimo anno consecutivo. Un riconoscimento importante per la città costiera che può essere definita una località balneare a misura di bambino. Sentiamo ancora Dalila Catenaro. Un riconoscimento importante, il secondo nel giro di poche settimane dopo l'ottenimento della bandiera blu per il secondo anno consecutivo. Termoli ha ottenuto anche per quest'anno il riconoscimento della bandiera verde, il vessillo che viene consegnato alle località balneari per le spiagge a misura di bambino. Ma si tiene conto anche di altre caratteristiche. C'è una commissione composta da pediatri ed istituita a livello nazionale con a capo il dottor Italo Farnetani, dodicesimo anno consecutivo per la città costiera che da città di mare sta diventando ormai città turistica. Anche questo vessillo è un valore aggiunto per Termoli e per ciò che sta diventando. Lo dicevamo in campagna elettorale da città di mare a città turistica ed è una differenza non solo formale ma sostanziale. Questa bandiera verde significa che i nostri servizi stanno migliorando anno dopo anno, soprattutto nei confronti dei bambini e delle famiglie. E l'afflusso turistico che abbiamo avuto nel mese di giugno e di luglio dimostra che potenzialmente possiamo diventare ancora più importanti. Quindi bandiera blu per eccellenza delle acque e bandiera verde per le spiagge più adatte ai bambini. Sono due colori che vivacizzano la nostra città. Parliamo sempre delle criticità che sono tante e pian piano dobbiamo risolverle e ce la metteremo tutta. Ma quando dobbiamo evidenziare questi aspetti positivi, dobbiamo considerare che sono proprio questi fattori che ci fanno camminare ancora più veloce verso il futuro. L'apertura della nostra città al turismo è un valore aggiunto? Sì, assolutamente. I servizi che migliorano nell'apertura verso il turismo significa proprio diventare questo, ricevere questi vestigli sia la blu che la verde e altri premi che arriveranno sicuramente perché ci stiamo lavorando con l'aspettativa di andare più velocemente ancora nella preparazione per l'anno prossimo, sia dell'ottenimento della bandiera blu che quello della bandiera verde. Anche per quest'anno Termoli risulta unico comune molisano ad aver avuto il riconoscimento della bandiera verde. Proprio così, per il dodicesimo anno di fila Termoli viene insegnita di questo importantissimo vestillo che è quello della bandiera verde. La bandiera verde è quindi quel riconoscimento che viene dato appunto ai comuni costieri che hanno naturalmente delle caratteristiche particolari, in particolar modo in riferimento a quelle che è la praticabilità delle spiagge, l'ampiezza delle spiagge, dei servizi che naturalmente le spiagge della costa appunto mettono a disposizione e anche dai fondali che sono accessibili ai più piccoli. E torna, cammina a Molise e celebra quest'anno la sua trentesima edizione. L'iniziativa che vede ogni anno la partecipazione di centinaia di camminatori dall'Italia e dall'estero si svolgerà dal 2 al 6 agosto. Le tappe di questa edizione sono Ferrazzano, Casal Ciprano, Castro Pignano, Pietracupa, Torella, Salcito, Sant'Angelo Limosano, Fossalto, Duronia e Bagnoli del Trigno. La presentazione ufficiale ci sarà domani mattina alle 10.30 nella sede del Galmolise verso il 2000 in via Monsignor Bologna a Campobasso. E ora vi parliamo della ventottesima edizione del Teatro Popolare della Tradizione curato dall'Associazione di Quartiere San Giovanni e da Lino D'Ambrosio quale direttore artistico 8 spettacoli in dialetto dal 29 luglio all'8 agosto con compagnie che arriveranno anche dalla Puglia e dalla Campania. Gli spettacoli si svolgeranno come sempre nel Parco San Giovanni alle 21.00. Ce ne parla Marta Martino. Ormai è un appuntamento fisso nell'estate dei Campobassani, il Teatro in dialetto al Parco di San Giovanni. Il Festival del Teatro Popolare della Tradizione è arrivato alla ventottesima edizione, un piccolo grande successo per l'Associazione di Quartiere e i tanti volontari che lavorano per la riuscita dell'evento. Alla presentazione ha partecipato anche la sindaca forte e l'assessore alla cultura Fraracci. Si inizia il 29 luglio con la banda di Campolieto alle 19.00 e alle 21.00 i Napoli Sani di Campobasso porteranno in scena la commedia brillante Amichevolmente Nemiche. È un appuntamento molto curato e sofferto anche in piccole difficoltà logistiche, però l'amore della nostra associazione e di tutti i componenti per non tradire il nostro pubblico porta questi frutti a presentare il cartellone che quest'anno presenta ben otto spettacoli. Otto spettacoli del 29 luglio all'8 agosto tutti alle 21.00 con gruppi teatrali che arrivano anche dalla Puglia e dalla Campania. Un cartellone che si preannuncia molto divertente come sa esserlo è il teatro in dialetto con le sue espressioni spesso intraducibili. Anche quest'anno l'artista Mario Serra ha concesso uno dei suoi lavori per le locandine, mentre la direzione artistica è firmata come sempre da Lino D'Ambrosio che si auspica che siano soprattutto i giovani a partecipare alle serate. Il cartellone di quest'anno come al solito è variegato anche perché l'intento fin dai primordi di questa manifestazione è stato sempre quello di conservare, dare risalto ai dialetti. I dialetti in un primo momento erano soltanto quelli molisani, proprio all'inizio 28 anni fa. Poi via via abbiamo cercato di creare una sorta di confronto, proprio perché il dialetto in qualche modo facesse da tramite, proprio nello scambio tra culture, tra modi, tra identità, tra tradizioni. E così è andato avanti. E con la ventottesima edizione del Teatro Popolare della Tradizione termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Vi saluto come sempre, ringraziandovi perché scegliete Telemolise. Buonanotte.